Il parroco Antiroghi è il ricercatore venuto dall'America, uniti nel contestare le esternazioni del ministro della salute Lorenzin. Don Maurizio Patriciello, il prete di Caevano in prima linea nella lotta alle comafie, e Antonio Giordano, l'oncologo che ha deciso di tornare in patria per aiutare la sua gente con la ricerca, proprio non ci stanno a sentir parlare ancora di nesso causale. Il primo conta troppi morti nella sua terra, la terra dei fuochi, per cancro, il secondo snoccioladati che non hanno bisogno di ulteriori commenti. Noi abbiamo un sistema Italia in cui un ministro dell'ambiente non dialoga con il ministro della sanità, quindi il ministro ha pensato di dire io stanzio 75 milioni senza avere un programma specifico, però purtroppo chi è che governa il nostro paese, quindi io parlo dei medici, i cosiddetti tecnici, sono anche quelli che sono stati negazionisti e che continuano a dire che il problema della terra dei fuochi, il problema della terra dei fuochi dei veleni è dovuto in realtà alle cattive abitudini dei campani. E voglio dire al Presidente che si faccia più attenzione a questo benedetto nesso di causalità, meno male che c'è sta gente come il professor Antonio Giordano, guardate perché se no a questo benedetto nesso di causalità, perché ambienti e salute stanno insieme e noi siamo stanchi di sentire persone che d'altronde poi non sono né medici né scienziati, parlo del nostro ministro della salute proprio per la verità, che ci continua a dire che noi stiamo morendo perché per i nostri stili di vita, perché fumiamo troppo, perché mangiamo male, però che non ci si venga a dire adesso che i rifiuti tossici interrati o bruciati sono diventati dei contorni di secondo piatto. E mentre Don Maurizio annuncia la sua visita al Quilinale con 12 mamme al seguito che hanno perso i bambini a causa dei veleni nell'aria e nel terreno, il generale Sergio Costa, altro simbolo della lotta in terra dei fuochi, critica una certa morbidezza con cui alcuni processi cadono in prescrizione. Tranne il 260, cioè l'attività organizzata di traffico illecito di rifiuto, e l'ultimo, quello del decreto legge, gli altri sono tutti dati contravvenzionali. In quattro anni e mezzo vanno in prescrizione dal momento in cui sono compiuti, non dal momento in cui vengono scoperti. Quindi non si riesce a compiere sicuramente tre gradi di giudizio. L'occasione è data dall'incontro, promosso dai farmacisti campani in prima linea nella tutela della salute, anche e soprattutto in quelle realtà di frontiera.